Musica Promozione Girone B nel segno del Brancaleone di Mr. Brando Che torna a riprendersi in tutta solitudine la testa della classifica Domenica che segna l'avanzamento a più tre in classifica sul siderno di Gianni Fiorenza Che non va oltre il pareggio a Bagnara Anticipo che consegna alla formazione del tecnico Ciccio Esposito Una vittoria preziosa per il Davoli sul campo ostico come Africo Vittoria importante in cave campionato che spinge in quota la squadra del presidente Giovanni Franco Dopo un paio di scivoloni interni ed il K.O. di Marina di Gioiosa ad avvio di anno Monte Paone, le immagini si riferiscono alla vittoria in casa Con il San Luca battuto con tre reti ad una Partita che oltre a registrare i quattro gol si è contraddistinta per le tante polemiche in campo e sugli spalti Insomma una bella giornata per la vittoria Ma il resto è tutto da mandare subito in archivio per le tante spigolature Che hanno davvero a che spartire poco con il calcio giocato Davoli e Monte Paone che ritrovano il sorriso con la vittoria Anche se dovranno fare i conti con il destino Perché il calendario prossimo assegna le due catanzaressi due partite importanti Super match per il Davoli che si ritrova di fronte la capolista Branca Leone E trasferta del Monte Paone a Siderno Davvero arrabbiatissimo più che mai per il distacco dalla prima Siderno che tiferà ovviamente Davoli Branca Leone che giocherà per se stesso I temi della domenica già passata riguardano da vicino tutte le formazioni regine Reggio Sud, Taurio Novese e Catona sotto per la zona playoff Bagnarese, San Luca, Gallicese, Cittanovese e Locri Impelagate nella lotta per evitare la retrocessione Come dire chi ci vedrà saprà